Ah, quanto schifo! Gli incantesimi ormai meno utilizzati, se prima venivano utilizzati per buttare giù il castello adesso sono ancora più inutili con l'introduzione della pozione veleno, non so davvero perché la supercell abbia voluto modificare questo incantesimo che appunto quasi nessuno di noi ormai usa più, l'unico modo o meglio l'unica opportunità per utilizzare questo incantesimo era quella di utilizzarlo per buttare giù le difese aeree. Però come possiamo osservare dai video qui sotto, sebbene sia un incantesimo a livello 7, non sono abbastanza due incantesimi per buttare giù una difesa aerea maxata, probabilmente non maxata basteranno ma naturalmente se ci ritroviamo con un TH10 perché l'incantesimo fulmine sarà disponibile dal TH9 a livello 6 e dal TH10 a livello 7, occorre buttare giù le difese aeree maxate e se il fulmine non ci riesce alla fine risulta pressoché inutile perché molto probabilmente sui depositi non lo possiamo più lanciare e su altre difese non verrà utilizzato. Reputo questo aggiornamento un po' uno spreco di tempo e anche un qualcosa che denota che la supercell non è sempre all'ascolto di ciò che i fan chiedono, di ciò che i fan vogliono realmente perché è dubito che qualcuno abbia chiesto di portare su l'incantesimo livello 7, fulmine livello 7 e dubito che anche questo aggiornamento possa dare una svolta alle tattiche, possa cambiare i sistemi di combattimento, possa aggiungere nuove tipologie di attacchi perché la sua efficacia è abbastanza scarsa. Naturalmente fra di tutto spero che il video vi sia piaciuto, purtroppo per ora sono le uniche informazioni che ho, se non sbaglio è stato aggiunto anche la possibilità di visionare le truppe sulla mappa della war, quindi prima di andare all'attacco, ma non vorrei dire una stupidata, spero di non averla detta. Spero che mi commentiate dicendo secondo voi l'incantesimo fulmine portare a livello 7 è stata una buona scelta, è stato un buon utilizzo di tempo oppure avrebbero potuto investire su altro. Se sì, su cosa avrebbero potuto investire? Probabilmente farò un video in cui raccoglierò le vostre idee e le commenterò di persona, quindi commentate in tanti, spoliciate e dattelo a fare tutto. Bella!